Amici dell'appetito viene parlando il saluto di Paolo Minucci, ben trovati all'interno del ristorante Il Timone in piazza Alessandrini a Pescara per questo nuovo appuntamento del nostro programma che vede come ospite d'onore il professor Pino Mauro, docente di politica economica della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università d'Annunzio in questo bellissimo locale che vi aspetta sia ora di pranzo che ora di cena con la tipica cucina marinara. Qui davvero il buon pesce fresco è di casa cucinato sapientemente da professionisti del settore. Una visita da parte vostra sarà senz'altro ben gradita, ricordo il ristorante Il Timone in piazza Alessandrini a Pescara. Allora professore un brindisi e doveroso a questo nostro piacevolissimo incontro. Tavola imbandita di ogni ben di Dio, frutti di mare in evidenza, pesce fresco qui al ristorante Il Timone di Pescara. Io andrò a servirlo di qui a poco, l'argomento i nostri telespettatori l'avranno senz'altro capito, parleremo di economia prendendo spunto proprio da questa crisi di cui si parla da più parti, perché c'è ancora chi dice che la crisi è passata, c'è chi dice invece che la crisi, quella vera, deve ancora arrivare. La verità e il pensiero nelle parole del professor Pino Mauro. La risposta forse coinvolge sia il primo che il secondo aspetto, nel senso che la crisi, il tunnel sostanzialmente, si è un po' completato in senso negativo e c'è una leggera ripresa che però è inferiore rispetto alle aspettative. Di conseguenza noi abbiamo una situazione ancora molto difficile perché ci troviamo di fronte a un periodo direi sotto il profilo occupazionale piuttosto preoccupante. Infatti anche se dovesse riprendersi il prodotto interno lordo, il reto prodotto, tuttavia l'occupazione non andrà ad aumentare. E questo credo che sia l'aspetto che ci interessa più da vicino in questa fase drammatica, difficile, soprattutto per le nuove generazioni. Gli economisti dicono che ci sono segnali rassicuranti, però le fabbriche qui in Abruzzo continuano a chiudere, purtroppo. Questo corrisponde in parte al vero, nel senso che l'Abruzzo si caratterizza per una struttura produttiva particolare perché al suo interno grandi fabbriche, grandi imprese che lavorano, operano sui mercati internazionali, a un esteso indotto da parte di piccole e medie imprese e un settore particolare che è stato aggredito dalla crisi che è il settore della meccanica. Le nostre grandi imprese sono proprio legate a questo settore, un settore che è stato aggredito a livello internazionale sia sotto il profilo delle esportazioni che sotto il profilo del fatturato. Teniamo anche presente che accanto a questo settore ce n'è un altro che è pure tipico della nostra regione che è il settore dell'abbigliamento dove a causa del calo dei consumi un ulteriore aggravio dei momenti di crisi. Quindi nel complesso la regione risente fortemente di questa crisi che ha colpito l'economia mondiale. Giusto per intenderci e fare chiarezza, mentre io l'hai sorto, caro professore, ad assaggiare questo pesce fresco sapientemente cucinato dagli amici del ristorante Il Timone dove noi della produzione e dell'appetito via in parlando torniamo spesso e volentieri. Ma la causa di questa crisi in tutta sincerità è dovuta alla presenza forte dei cinesi che soprattutto in certi settori dettano purtroppo legge e prezzi o magari a quelle cause di cui si diceva anche in precedenti occasioni derivanti appunto da certe situazioni successe nel mercato americano. Beh, questa crisi scaturisce soprattutto dai cosiddetti subprime, cioè di questi mutui marginali concessi dalle banche americane a favore di famiglie che non avevano una grande capacità di restituzione del mutuo. Poi attraverso vari procedimenti di cartorizzazione, cioè di passaggio di mano in mano di questi mutui in gran parte insoluti ha provocato una crisi a catena, affetto domino che ha coinvolto prima il sistema bancario e poi l'economia reale. Quindi la scaturigine proprio di questa crisi è sicuramente quella legata alla situazione finanziaria ha una finanza particolare, oserei dire, cioè una finanza costruita sulla carta non una finanza legata allo sviluppo, legato all'economia era una finanza formale che serviva soprattutto a riempire i bilanci delle grandi banche anche per poter dare poi l'opportunità di pagare grandi benefit ai manager quindi una finanza non al servizio della persona, non al servizio dell'uomo non una banca che svolge attività tradizionali, raccolte, impieghi a favore delle imprese ma una banca che lavorava esclusivamente o quasi esclusivamente su questo versante e questo è stato ecco poi il motivo fondamentale della crisi. La Cina interviene su un altro segmento, la Cina interviene su alcune nostre produzioni soprattutto le produzioni legate alle confezioni, all'abbigliamento dove questo prodotto medio-basso, diciamo, a scarso valore aggiunto veniva facilmente aggredito perché è imitabile dalla concorrenza cinese questo aspetto direi che ha colpito soprattutto alcune nostre imprese che operano nella nostra regione nel settore dell'abbigliamento. Rispetto alle crisi avvenute negli anni precedenti, negli anni scorsi che tipo di crisi è stata? Beh questa è una crisi molto profonda, una crisi davvero molto difficile da molti è stata paragonata alla crisi del 29, alla crisi di Wall Street che lasciò appunto sull'astrico milioni e milioni di lavoratori disoccupati e questa è una crisi però che ha una forte profondità perché sostanzialmente è partita nel secondo, verso la fine degli anni 2007 siamo all'inizio del 2010 e ancora risentiamo degli effetti sull'economia reale di questa crisi quindi vuol dire che è stata profonda e grave è la situazione di difficoltà, lo ripeto ancora una volta perché è questo l'aspetto più drammatico è che non c'è una ripresa immediata, come si dice molto spesso una ripresa ad u nel senso proprio che c'è la crisi, scende, raggiunge il punto negativo e poi riapre poi va verso l'alto, invece no, è una crisi la cui ripresa è lentissima, appare fragile ed è questa forse la grande novità che stiamo registrando in quest'ultimo tempo cioè che noi aspettavamo una ripresa più forte, più consistente e invece si sta verificando in una situazione direi molto 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 tenue praticamente